è un semi automatico adesso quel brio di usare le armi buggate evitate il gas, andate alla zona sicura si, ti dico alla me non puoi avere nostalgia di un brio che non hai mai provato si, lo so, ma perché l'ho provato una partita ha fatto il degheio avanzate alla prossima area mettete in sicurezza il perimetro ah, vabbè amen amen fratelli i duda mi stacco invece no qua c'è un crag qua sotto c'è un loadout fate voi c'era un team qua davanti fin due secondi fa l'harbor ci sono i soldi per il loadout? no, ma rovino d'arbor ok, ho visto andare dall'altra parte mi sto preoccupando ho detto questo, dove cazzo va? passi oh passi Gabriele, per favore porca puttana qua sopra il prison stanno facendo festa si, si, si saranno sopra qua ah, come cazzo si chiama? qua sotto non ne ho rimparati non ne ho rimparati se non vabbè non faccio laserare come subito e invece no ah, qua sotto lo shop nuove coordinate in arrivo unitato esatto cazzo arriva il cazzo sotto sotto venite seguitemi qua da me sulle scale a terra bello l'lc10 ci sono due da me due da me due da me due da me no dai si sceglie a terra anche l'ultimo mamma mia vecchio capelo perché non hai timo nientazzo? siamo tutti nella zona sicura siamo tutti nella zona sicura no è Pelo che mi sta per uccidere con l'omologo ho fatto uno dei salvatati del giorno mamma mia shop loadout instant let's fucking go lascio tutto anch'io fate voi eh è aspettabile dai dai questa qua la provoco FFR di amato vabbè tipico arriva un lancio d'equipaggiamento si infatti vecchio per farti capire ho diamatti FFR per farti capire il loadout gas in movimento nuova zona sicura e individuata 43 metri sono sulle case qua sopra che fai? il sensore di battito cardiaco lo so che me lo faccia dire pezzo di merda 32 metri io beh hito un pochettino vabbè non pinga più si 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 sopra sull'altra casa sull'altra casa hitato picca ancora ti supplico a terra ti vengo a arrestare no non ha niente sta andando a arrestare sono nella casa qua davanti sono nella casa qua davanti sono nella casa qua davanti sei in discesa nell'area occhio in alto fatti non ho idea di cosa li abbia aiutati che cazzo ha tirato la granata cosa è esploso qua davanti casa della torre secondo piano sono sotto attacco si il delinco ha perso le vostre tracce siete al sicuro sopra uno è morto è qua dentro lo stanzino miro forza un pelato grazie amico resta concentrato sono pronto gas in arrivo oh qua sotto priso sopra priso l'obiettivo è eliminare il bersaglio andiamo da mauro andiamo da mauro infatti questi due parti fatti no c'è un altro c'è un altro c'è un altro mi hanno colpito mi hanno colpito miro se riesce a restarti sto tornando pinga devo scappare ostile in discesa nell'area posso salire da qua si ho un'arma senza torcia ma no perchè da più portata danni vecchio vabbè vi aspetto un po' è sotto? non lo so non ho la mia idea mi sembra sotto vabbè ma qua c'è la roba vecchio qua c'è la roba vecchio piazza una mina si 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 uno mi ha appena passato avanti ti stanno tirando lo d'out aspetta saldi in corso prezzi delle scuole uno patto sotto due parti sotto eh non lo so vecchio un attimo c'era uno ancora sul tetto il terzo è sul tetto per un soffio miro vengo da te eh vabbè non è non lo so guarda avanti sopra sopra andiamo su andiamo su miro sali occhio c'è una mina qua crackato a terra mino c'era mina grazie grazie granata granata giù 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 piastrati con calma posto qua ci sono armi Mauro secondo piano delle scale mi hanno colpito mi hanno colpito hit up a terra dietro qua 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 crackato crackato a terra qua sulla casa casa solita picca dalla finestra mi stanno colpendo l'amico in movimento dall'altra finestra adesso crackato a terra venite andate Ok mi hanno con la macchina Hittato Oh questi 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 No devo levarmi Dove è l'ultimo Ok Abbiamo un team sulla casa gialla Stavano salendo Mentre noi stavamo scappando Sì 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 va bene Abbiamo ancora 30 secondi Ma vai qua No non c'era una armi Arriva un lancio d'equipaggiamento Se volete c'è una deagle pulchitata Ed Doppia morte Oh qua 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 sta atterrando un tipo Sta atterrando un tipo qua Ostile in vista Non c'è più Non c'è rimossa Sto laggiucchiando dolcemente Ok sì l'ho visto punto giallo Sì ragione Andiamo a pusharlo ci prendiamo la zona Gente alla casa verde Porco boia infatti l'avevo visti Dica Sento gente qua le tende mi so eh 19 metri Ci sono due cose che tendono a me Casa gialla anche Mi hanno colpito Mi hanno colpito Uno là in fondo E uno là davanti Sto arrivando a voi Sono leggermente Bravi Sì Uno dietro di te Uno da Mauro Traccato È one shot Dietro di noi Dietro di noi Grazie Qua davanti qua davanti Casa Primo piano Sta salendo Ce n'è uno da dentro eh Vedo un tiratore Sarà al secondo piano adesso Dobbiamo arrivare alla zona sicura Secondo piano Secondo piano A terra Fatto Un secondo mi piastro Sono pronto Non è easy Non è easy Aspetta vado a ricaricare tutto Buono Cazzo Non li vedo una cazzo Non li vedo un cazzo Bel lavoro Porca puttana Porca puttana Ho imbottato la lobby Se vuoi sì Ho imbottato la lobby Cazzo Ah Gli ultimi due Non li ho niente Ammiro Ammiro Cosa vuol dire Bella partita Porca puttana Mauro Questa si mette su youtube Siamo stati un pochettino tutti da soli Aspetta che mi clip ho anche i danni Poi Ci sono stati un pochettino tutti da soli